oddio avuto snipe perchè avuto snipe vediamo cosa usano loro triplo mida lama con mida lama con... eh... vabbè ciao cantore mida saltatore mida con due cecchini un p... qui c'è la pietà oddio io su ultima parola ahahahahahahahahahahah what no veramente preferirei buttare l'ultima parola che potremmo essere sto coso c'è veramente cinque mida in sta cazzo di lobby perchè cosa sto usando stai vendo la pietà uso il dottrina non puoi usarlo la pietà di nirwen non puoi usare il dottrina perchè non puoi usare il dottrina potete usare il falco uso il falco l'abbiamo detto l'ho già scritto nelle regole aaaaaaah ma ci siamo messi d'accordo che cosa devo dire eh infatti no la cule è vero delle regole alalalalala uso il falco più chiaro no vabbè sta mappa è da mida cioè c'è proprio scritto sotto mida scarmaglia usciamo sinistra scarmaglia e forse sopravvivrete ho anche pushar troppo che con il mida vi devastano andare un senso sono girati corlino loro pesanti destra uno sotto il ponte c'è anche da sotto no si si occhi destra da me da me ponte uno sopra uno sopra hittato uno si dovrebbe morire non prendi colpi what sono hittato sono monshell sono monshell dici che mi push lo push qua presa l'altra è in fondo al ponte ma che cazzo dai ruggiamo usciamo sull'altro spawn 40 secondi le speciali dai sono qua sono qua guarda che oddio non prendono colpi vai in qua a sinistra presa poli dici colpa affortunato di avere prendiamo le speciali 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 si prendi 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 respawno ah merda perchè ti ha fatto respawno meglio no? sarà vicino ah merda mi ha preso è sotto la roccia sotto sotto la roccia presenti va verso il ponte sono tutti e tre sulla mia luce ma sotto la roccia è stato ad essere in fondo da noi da dove mi da dove mi prendeva no vabbè no arco dio mi push in due mi sa si vento vattene vattene bravo 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 gg ma che cazzo stanno ad arrestare? provo da me da me in due da me in due i dati tutte no il secondo perchè non mi attivano cosa? no vabbè no ma non prendono colpi eh che cazzo succede? no ma è tritato ma che succede? dai ma non prendono colpi vattene vento aspetta c'è il centro c'è il centro c'è il centro c'è il centro bravo ah push da sopra arrivo arrivo c'è poi da me sopra sopra destra destra dove? rispetto a quale posizione destra sei che la destra vabbè dove siete voi? dove state guardando? eh si mi sa guardando allora spune ce li ho da me sono in due i dati in due porco dagli un colpo dov'è? dove è? so stragole di merda oh ma porco dio sempre per lo scudo devo vincere preso poli bravo guarda la luce non fate restare e la luce? da me da me ne pingo due pusciamoli tutta cosa vedi? muore 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 leo moriva ma lui ti amo ma sti cazzo c'è luigi in centro controllo ponte? poli in fondo poli in fondo adesso ma che cazzo faccio un giro di specialità sono a collina pesanti in fondo in fondo all'altra parte del ponte poli è molto sciottissimo no merda luigi sopra la cassa frecchina e se ti sta frecchinando usciti radianzi il mira è buttata insieme no vabbè mi ha entritato in tre non ha preso neanche la granata poli ma what? prendiamo il speciale il vento bravo ma comunque il pompa qua non posso usarlo tu non c'è lì no che culo il corpo è fortunato no non c'è il cecchino dov'è che hai la luce? ponte ponte apia sul ponte no vabbè come cazzo l'ho lisciato no vabbè io ho usato la radianza e l'ho sprecato lo poi si è messo super al nostro spawn dove è il nostro spawn? ce l'ho il sniper tu non si è messo super io ce l'ho ce l'ho e ho un shot eh? cg quello non era il nostro spawn che cazzo allora spawn uno uno ho hitato il body uno è stato il send è stato il send è stato il send hai scappato hai scappato sono a destra a più senti destra ce n'è uno che ha blinkato a più senti destra quindi ho fatto body dai non hai hitato sono fattuto sono fattuto ma dai che non entri nei colpi guarda che sfiga ho detto che non entri nei colpi vabbè che aveva una mira di merda no direi che il falco è una merda no Luigi è una vita che volevo? non ci credo non ci crede mi ha fatto la super non solo spawn riprendimi almeno 13 e 4 punti riesci a riusciarlo? aspetta no no l'ho preso Luigi eh lo scazziamo pusciamolo da solo giriamoci giriamoci guardi dietro aspetta le speciali speciali preso poli ah questo inizia ad andare negativo porco dio devi oh mio dio tu non hai idea di come mi hai salvato è merda mi sono ricastrato non ho vita quattro di cosa muoio e vabbè poli mi è fottuto così guarda lo stregone che ti salva per lo scudo che schifo porco dio responate stanno pesanti destra merda in culo ah ah che roccia roccia sopra non ho preso non ho preso non ci credo hai sulle pesanti stai assendo non mi chiudono giro da vento si arrivo so sponato in più qua vabbè ma che cazzo risponate ti sta pushendo lì attento mmm mi sono perso andando a scatti proprio vabbè what? sono vero? che sto dicendo? mi chiudono la spawn provo a pushar da voi si vieni da noi vieni da noi ho preso poli ah che culo che culo luigi è nella stanza dello speciale stanzino speciale mi ha fatto merda no non mi restare sono troppo visibile ho capito sta restando sulla si sta mirando non so dove cazzo stanno è nella stanzino speciale ancora la mirare ho capito però uno sta anche sul ponte rientro rientro ho preso poli bra sono due stanzino speciali no no lei ha solo stanzino qua no si è spostata tre data rest mi vento ti aspetta ho qui dietro ho qui dietro attento dietro la tapicella c'è preso il resto pushamoli che saranno in due allora dietro dietro di noi c'è poli dietro ponte preso preso leo radianza bene essi qua si è one shot preso bravo ho tirato a gi forza di body shot poi l'ultimo lo terminate è una cosa vabbè l'importante è che ho tirato a gi giriamo dove è dove è il mio vai fai te copriamolo copriamolo c'è c'è poli forse dietro o no lui che è si è poli poli gira ponte giro sotto il ponte guardiamo a terra dai è entrato nel loro spawn dentro in fondo arrivo cazzo bene da sopra dalle pesanti si è spawnato morto dio canio abbiamo vinto lol oh mio dio come quello di merda così è perfetto abbiamo due super difensive un martello che può anche pusciare la mia non è più difensiva e non è più pusciare la radianza no ho detto due effetti la radianza è la super più offensiva sono positivo no se ne scrivi intanto non lo farei mai più ahahah un positivo tiè fammi aggiungere a mida le armi che devono essere bannate dai miei torneo ma giochiamo con quell'armaiola a sto punto no io volevo fare tipo le armi quelle bianche quelle bianche quelle che non sanno usare armi bianche merdavaglia per loro dicono eh ma sono bravissimo ad usarla fuori ma c'è è sbagliato fare sta cosa che cazzo vuol dire no si usano le bianche e sono tutti quali per tu io sono diventato bravissimo ad usare i granati d'ardio a culo e se mi trovo un culo io non stavo bravo a usare i ghiallor e me l'hanno tolto che cazzo infatti cazzo mi e my whole crew me and my whole crew me and my whole crew base di attiglieria delphi ma è lo schasman è un nemico fucile pompa blu perchè? dove andai perchè? scuola tutto il pdx giudicare vedo diritto. la canzone un colpo a nostra sinistra, sinistra, sinistra è pesantino cerchiamo sotto l'interditati 2 non è la vita e' come il dalleo per tuttavia cazzo c'è luigi dietro luigi dietro io sono un shot bra che arma stai usando? scudo di merda cosa stai usando? se tutti dicono che fa cagare quest'arma poi i diokano la guardano e dicono eh? tutti tra lì luigi metà vita uscita a destra sulle speciali è fissola sulle speciali non è vero che one shot perchè taglio fuori quello che sta arrivando? preso il hitato lo push dietro di WK girati, girati nooo potevi coprirmi, potevi spararmi vabbè eh, era dietro al muro, te l'ho detto sennò viene nel salto, viene nel salto, viene nel salto viene nel salto, viene nel salto vai vai se la nostra si si c'hanno visto si sono ritirati sono dietro a 100 però c'è fuori a destra c'è fuori a destra c'è fuori a destra due a sinistra no non ci credi ma primo maleficio, what? No, li ho diventati entrambi Tuo padre Sì, sì Sì, mi ha detto anche un po' un paio in questa mappa Pesanti, Poli Ovviamente sono stato un animale di Okami Oh, occhio a Poli dietro, Poli dietro No, l'ha ucciso a Poli Ah, ok Ah, sono sempre due line Sono due pesanti Che cazzo, due mid Aiuto, 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 aiuto Oh, no, da giù No, uno per la bruciatura Lui c'è la metà vita Sale sopra, sale sopra lui No Si prende il rest No, vatti, l'avvento, si prende il rest Come ho fatto a cammella con la granata Che buscia di cattiveria nel pompa No, poi l'ho scattissimo Bella Eh, dietro, dietro su B Stanno andando verso pesanti Ok, buono Qua da me Beh, gira pesanti Si diventano per la porta Un colpo muore Un colpo muore Oh, che bussado così fa il pompa Ed è una stregone, vi ricordo Dietro Arrivando dietro Sì, vedete, vai, queste mie stime E ce ne vengono a destra sulle presenti No, è sparito Femme the special Dietro B, sono dietro B Ok, va dietro Bravo Porco Dio, quanto te lo stai Venite qua, pushate, puscire a me No, ho bisogno di avere la granata No, Snap si è messo davanti la mia granata Vabbè, buono Io per dire risolvo tutto No, muoio È one shot, Luigi No, sto bruciando e non la vita One shot, Luigi Che c***o Ah Ah Che bestia Eh, in mid Sulla ruota, sulla ruota Da roba con il carry, insomma Ok, avvento fin giottino Vado di radianza Oltre radianza Lo puscio Preso No Che schifo che radianza contro radianza Quante manate servono quando carichi quando vi radianza contro radianza? No, è usato un colpo di pompe e non la radianza E' il colpo di radianza Di manate Carico Ah, non c'è chi? Eh, Luigi mi è tardi No, ne avevo scattissimo Ci sono due, sono due, sono due, attento Arrivo da dietro Corco Dio Snap, vattene, vattene, ti chiudi una sinistra, ti chiudi una sinistra Oh, vado, gli è arrivato l'ultimo colpo Che è? L'ha sponata L'ho preso il colpo e l'ho lasciato con tre Infatti, a volte, fa incazzare madonna Nooo Che cura, oddio, l'avete usata insieme Non l'ho preso Quattro l'acqua Dov'accazza? Che cazzo è successo? Si è trasportato Oddio Va sotto Ma va, porco Dio, passa di sotto col pompa Vabbè, alto Che palle Ti chiudi, ti chiudi una sinistra Non rianimare, non rianimare, vattene Scappa, scappa via Vai da Venture, Venture, c'è la sinistra Aiutalo Ok, si è da noi Stai comunque in mid Ha tirato una laghiata storda a un certo punto Si, vabbè, stranamente proprio quando c'è volo Facciamo il giro Arrivo Venture Si è morto Che schifo il cazzo Che minore del cazzo Ah no, ha recuperato vita È morta rossa Che buccia, sei morto Oddio Ma il cazzo No, vabbè Ma dai, ma che curo Ma che curo Zii Ma sei serio? Ah, se non è stato Vai via, vai via Ne ho preso in testa Sto con un shot in mid C'è una sopra mid Pesante anche Adesso lo, adesso lo puoi push a Venture Bra Ma porco dio Nooo Ti sta pushando a sniper Oddio Che cazzo Ma mi pushano in due Mi sa che ci muoio Prova a fare qualcosa Spera, diamo di Venture Luigi one shot Luigi one shot Avete l'ultimo Di mid Sono one shot Una ruota Arrivo, arrivo Leo one shot, prendila Bravo Che lag Quanti cazzo dia si sta facendo? Ah, si, siete gialli voi due Sto martedì che sta leggermente la gun Da quando ho tirato quella laggata storda Sotto sotto Nooo Mi ha fatto tirare la super Dov'è che è? In chiama posizione È morto, è morto Da meee Da meee Da meee All'ultimo è davanti Cucco Ce n'è uno qua dietro Su B Lui si sale E' il dito sponso Ma non è il dito Gigi 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 Andiamo a recuperarla, dai Gigi Gigi Ma lei ha quitato? Ma lei ha quitato? Sì Ah, sono ancora positivo Suca Gigi Gigi